Hola ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Xredder e oggi siamo tornati su Minecraft con un altro tutorial sui comandi e i command block. Oggi andremo a vedere il comando slash game mod, anche questo è un comando molto semplice e basilare che molti di voi conosceranno anche e quello che fa semplicemente è cambiare la modalità del gioco del giocatore, ovvero sia ad esempio passare da survival a creative e viceversa. Le modalità di gioco possibili sono 4, la modalità adventure, la modalità creative, la modalità spectator e la modalità survival. La modalità adventure è esattamente come una survival, cioè avremo la vita e prenderemo ovviamente quindi anche danno, tuttavia non possiamo spaccare blocchi o aprire per esempio ceste a meno che non abbiamo determinati strumenti o simili. E questa modalità è stata principalmente per le mappe, le custom map, perché per esempio non possiamo appunto spaccare il blocco d'oro se non abbiamo un piccone fatto apposto per spaccare il blocco d'oro e questi picconi speciali o questi strumenti speciali si fanno tramite i comandi. E semplicemente anche per ceste. La modalità creativa, penso che la conoscete di già, è una modalità in cui non prendiamo danno e abbiamo tutti quanti i blocchi infiniti, possiamo anche volare. La modalità spectator è una modalità in cui in pratica siamo invisibili sia a tutti quanti i giocatori che a tutte quante le entità, potremo attraversare i blocchi, non possiamo né costruire né distruggere né attaccare. E infine la modalità survival è una modalità classica di gioco in cui semplicemente prendiamo danno e possiamo modificare il mondo e interagire con le altre entità. Quindi una volta scelta la modalità di gioco che volete cambiare, poi cerchete il target e premete semplicemente invio e così avrete modificato la vostra modalità di gioco. Comando molto semplice, volendo, se non volete scrivere il comando ogni volta, basta che tenete premuto F3 e poi premete N e così cambia la modalità di gioco passando dalla modalità attuale a quella spectator e viceversa. Per dire, se io sono in survival e premo F3 e N, passo in spectator e poi ritorno in survival, mentre prima sono passato dalla creative alla spectator e viceversa. Volendo, se vogliamo cambiare modalità senza stare ogni volta a scrivere il comando, basta che teniamo premuto F3 e poi premiamo F4. e a questo punto possiamo o scegliere con il cursore la modalità di gioco che preferiamo oppure semplicemente premere di nuovo F4 e poi spostarla. Se non premiamo niente, se non premiamo F3 ed F4 senza spostare appunto la modalità celezionata, continuerà a cambiare tra la spectator e quella attuale. Il tutorial è finito qui, come avevo già detto era molto semplice come comando, spero che sia tutto quanto chiaro, se avete domande, richieste o commenti, non esiste a chiedere nei commenti oppure nel gruppo tele che è in descrizione, da Xradar Tutto e Xradar Burn.